buongiorno a tutti eccoci qui in questo nuovissimo video allora oggi andremo a vedere la poly pocket questa qui la scatola è stata già aperta purtroppo più quattro anni e andiamo subito a vedere la bambolina la bambolina si presenta in questa maniera così allora è fatta molto molto bene ed è molto molto carina con questi cipollotti qui sport ok al vestito in gomma in silicone insomma e gli stivaletti azzurri abbinata alla cravatta e al cinturino diciamo con la collanina è molto molto carina ma le scarpe si tolgono molto facilmente e si rimettono molto facilmente bisogna stringere molto bene il vestito idem guardate track e track poi si muove perfettamente sia le mani che le braccia che le gambe ecco forse l'unico difetto è che scivolano un po le scarpine vediamo farli il cambio vediamo ecco forse così sta anche meglio e niente questa è la poly pocket questa qui sembra un po vestita da scolaretta e niente è molto molto carina e si trova a poco più di penso 5 euro credo che intorno agli 8 9 euro dovrebbe costare purtroppo non lo so perchè questo me l'hanno regalata comunque molto molto carina e niente questa era la recensione su questa bambolina io spero che questo video vi sia piaciuto ovviamente se è così lasciate un bel like iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati sui video io vi mando un bacio un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie.